Allora devo salutare tutti quanti quelli del canale e cercherò di salutarvi e di guardare contemporaneamente la gara. Quindi diciamo che Fiera Cavalli è talmente piena di eventi, di interviste, di avvenimenti che uno non sa veramente dove guardare. La cosa più importante comunque è stato sia lo spazio dedicato ai bambini che quest'anno con le scuole hanno avuto il ruolo di protagonisti perché hanno fatto disegni, hanno creato degli spazi web mi dicono che dobbiamo chiudere qua. Grazie, arrivederci. Grazie.